Un saluto da Edes Software. Oggi siamo lieti di presentarvi Edes PCM 2015, la nuova versione del nostro programma per la progettazione delle costruzioni in muratura. Questa versione contiene importanti novità sia dal punto di vista dell'interfaccia che delle possibilità di modellazione. Molto interessante è l'introduzione del MultiView, cioè la gestione di un layout con finestre multiple. Oltre alla classica configurazione con due finestre affiancate in verticale, è ora possibile scegliere una diversa configurazione, ad esempio con due finestre affiancate in orizzontale, oppure tre finestre in diverse configurazioni, o addirittura quattro finestre di uguale dimensione. A questo punto è possibile ruotare il modello premendo il tasto Alt e il tasto sinistro del mouse e ottenere così una vista dell'edificio da diverse angolazioni. Oppure possiamo attivare le sezioni che abbiamo definito in pianta sfruttando il comando sezione, in questo caso la sezione S01 ed S02. È sufficiente cliccare nella finestra in cui vogliamo attivare la sezione e fare doppio clic sulla relativa voce del navigatore. Automaticamente la vista si porta in sezione S01. Allo stesso modo passiamo alla finestra in basso a destra e attiviamo la sezione S02. In questo modo abbiamo una vista in pianta, una vista in 3D e due viste in sezioni dell'edificio, una delle quali, premendo il tasto Alt e il tasto Invio, può essere ruotata per diventare così una sezione tridimensionale. Inoltre non c'è nessun vincolo sulla posizione delle varie viste. La stessa vista in pianta può essere ruotata e diventare una vista sonometrica, mentre la pianta può essere visualizzata nel riquadro a fianco. È sufficiente cliccare all'interno e selezionare pianta dal navigatore. In qualsiasi momento è possibile ingrandire una delle finestre semplicemente facendo doppio clic al suo interno e con un ulteriore doppio clic tornare alla vista multipla. Le due sezioni offrono lo spunto per parlare di un'importante novità che riguarda la modellazione. Infatti dalla sezione S01 notiamo che in questa porzione dell'edificio i muri e i solai rispettano la scansione dei piani definiti, mentre nella sezione S02 notiamo che è presente un doppio volume, con muri che si estendono dal piano terra al piano primo. Infatti per muri e colonne è possibile ora definire un piano di elevazione diverso dal piano base. In questo modo tali elementi possono estendersi anche per più di due piani. Un'altra interessante novità, questa volta relativamente all'interfaccia, riguarda l'organizzazione delle schede. Sono infatti presenti tre gruppi con colori diversi che identificano le tre fasi della progettazione. Si parte dalla modellazione architettonica nella scheda modello, per passare al gruppo delle analisi elastiche, dove abbiamo nella scheda struttura la modellazione strutturale del tray equivalente e nella scheda risultati la consultazione dei risultati, come ad esempio la deformata modale. Si termina con la scheda analisi cinematica, con la modellazione dei meccanismi di collasso. Abbiamo visto come selezionando ognuna di queste schede si è cambiato il modello visualizzato. Siamo passati dal modello architettonico al modello strutturale per finire con il modello cinematico. Sono a disposizione invece schede che hanno validità per tutte e tre le fasi della modellazione. Sono tali la scheda supporto e la scheda strumenti, che offre i comandi di disegno e modifica, nonché quelli di selezione delle viste e di definizione del box. E' importante specificare che i gruppi analisi elastiche e analisi cinematica saranno visualizzati solo nel momento in cui verrà creato rispettivamente il modello strutturale e il modello cinematico. In questo modo, durante le fasi della progettazione, saranno disponibili solo i comandi effettivamente utili. Bene, a questo punto possiamo vedere più in dettaglio queste novità seguendo la progettazione di questo edificio a partire dalla modellazione architettonica. Il primo passo della modellazione consiste nella definizione dei piani dell'edificio. Ci portiamo su gestione piani e definiamo quattro piani per questo edificio. Il piano interrato di altezza 2,2 m, il piano terra con un'altezza di 3,2 m, piano primo 3,03 m e piano copertura 0,5 m. A questo punto andiamo ad inserire per ogni piano un disegno da utilizzare come riferimento per la modellazione. Partiamo dal piano interrato. Ci portiamo nel comando disegno e dall'apposita cartella selezioniamo il file relativo al piano corrente, quindi pianointerrato.dxf. Facciamo clic su apri e notiamo che il file viene inserito e automaticamente vengono visualizzati gli assi cartesiani, in modo che sia chiara la posizione del disegno rispetto all'origine del progetto. In questo caso abbiamo avuto cura di posizionare tutti i disegni che andremo ad inserire in modo che abbiano un'origine comune e che siano prossimi all'origine, altrimenti potrei sfruttare i comandi CAD disponibili nella scheda strumenti per spostare il modello nella posizione desiderata. A questo punto mi porto sul piano terra e vado ad inserire il disegno relativo al piano terra. Ripeto la stessa operazione anche per il piano primo. A questo punto ci portiamo al piano interrato per inserire i muri di quel piano e facciamo doppio clic sulla finestra per ingrandirla. Il primo metodo di inserimento dei muri consiste nella definizione della loro linea di riferimento. In questo caso clicchiamo sul punto iniziale del muro e durante l'inserimento dobbiamo andare a sistemare l'allineamento e lo spessore. In questo caso abbiamo bisogno di un allineamento a sinistra e per quanto riguarda lo spessore possiamo inserirlo numericamente oppure misurarlo dagli snap offerti dal DXF. In questo caso viene impostato automaticamente al valore di 0,35 metri. Clicchiamo nel punto finale per completare l'inserimento del muro. A questo punto il comando prosegue con l'inserimento del muro successivo ma cliccando col tasto destro usciamo dal comando. Il secondo metodo di inserimento è il muro rapido che consente di definire un muro semplicemente tracciando una linea che interseghi due linee di riferimento. Il muro viene inserito con lo spessore adeguato. Ripetiamo l'operazione anche per tutti gli altri muri. A questo punto possiamo completare la modellazione sfruttando i comandi CAD. Ci portiamo quindi nella scheda strumenti. Utilizziamo il comando raccorda per raccordare i muri e clicchiamo col tasto destro per ripetere il comando. Per estendere i muri li selezioniamo e trasciniamo il relativo grip. Mentre per completare la modellazione della risega aggiungiamo due pezzi di muro in questi due spigoli. Da notare che il raccordo tra i muri avverrà in modo automatico se le linee di riferimento si toccano nel punto iniziale e nel punto finale. Completiamo la modellazione dei muri stirando questi due tramezzi. Per inserire un'apertura è sufficiente cliccare nel punto iniziale e nel punto finale sul muro di appartenenza. Bene, una volta inserite le aperture ci portiamo nella vista 3D per aggiustare le loro altezze. Come vediamo tutte le aperture sono state inserite come se fossero delle porte ma dal modello notiamo che queste due debbano essere dei finestrini ad una certa altezza quindi impostiamo una distanza da base pari a 1,6 m e un'altezza pari a 0,4 m Bene, a questo punto possiamo proseguire con l'inserimento dei solai per farlo ci portiamo nella vista in pianta e attiviamo il comando solaio ci viene chiesto di selezionare un punto all'interno di una regione chiusa delimitata da muri o travi facciamo clic e il solaio viene inserito automaticamente ripeto il comando con il tasto destro per inserire anche i solai successivi una volta inseriti i solai è necessario definire la direzione principale di orditura quindi li selezioniamo e andiamo a definire una direzione a 90 gradi inoltre è necessario definire i carichi abbinati quindi selezioniamo i due solai abbinati al vano scala e andiamo a definire un carico permanente di 3 kN al metro quadro un carico permanente non strutturale di 1.6 e un carico variabile associato alla condizione di carico elementare variabile categoria A pari a 4 kN al metro quadro mentre per gli altri due solai andiamo a definire un carico permanente di 2.5 kN un carico permanente non strutturale di 1.9 e un carico variabile pari a 2 prima di passare alla modellazione del piano terra facciamo alcune considerazioni sui materiali utilizzati notiamo che i muri inseriti hanno materiale e blocchi di calcestruzzo tale materiale è stato definito nella finestra dei materiali sotto la voce muratura esistente abbiamo definito anche il materiale mattoni semipieni e mattoni pieni nella finestra gestione materiali è possibile aggiungere nuovi materiali oppure modificare le proprietà dei materiali definiti in questo caso vogliamo assegnare ai tramezzi di questo piano il materiale mattoni pieni quindi selezioniamo i due tramezzi e con il tasto tab ci spostiamo in modo da selezionare il muro e andiamo a definire nella voce materiale il materiale mattoni pieni come notiamo il colore del muro è diventato pari a quello definito per il materiale a questo punto ci portiamo al piano terra per inserire gli elementi di tale piano ripetiamo le operazioni svolte per il piano interrato questa volta però i muri da inserire saranno col materiale mattoni semipieni bene abbiamo quasi completato la modellazione del piano terra con l'inserimento di muri, aperture e solai a questo punto possiamo concentrarci su quella zona dell'edificio che presenta un doppio volume cioè i cui muri devono estendersi dal piano terra al piano primo si tratta dei muri che andiamo a selezionare per questi muri possiamo andare a definire la proprietà piano di elevazione impostandola come piano primo automaticamente la loro altezza si adegua per portarsi all'altezza del piano primo in seguito a questa modifica è cambiata anche la visualizzazione in pianta di questi muri notiamo che vengono rappresentati con un contorno grigio questo sta a rappresentare che si estendono su piani diversi e che non possono essere considerati come contorno per la definizione di un eventuale solaio al piano corrente se passiamo ora alla visualizzazione del piano primo notiamo che nella pianta questi muri sono già presenti procediamo quindi con la modellazione del piano primo come abbiamo fatto per i piani precedenti completato il piano primo passiamo alla modellazione del piano copertura questa volta invece di un DXF utilizzeremo come riferimento i muri del piano primo è sufficiente selezionare piano primo e attivare la proprietà riferimento abbiamo così una traccia degli elementi presenti al piano inferiore procediamo così con l'inserimento dei muri sfruttando gli snap offerti dal piano inferiore una volta inseriti tutti i muri andiamo a modificarne le altezze per definire le pendenze del tetto selezioniamo il muro di spina centrale e impostiamo il valore del deltac iniziale e deltac finale pari a 1,58 m questo valore rappresenta lo scostamento rispetto all'altezza del piano di riferimento a questo punto selezioniamo i tre muri ortogonali e impostiamo per questi tre il valore del deltac finale pari a 1,58 m dall'altra parte selezioniamo i tre muri ortogonali e questa volta definiamo un valore del deltac finale pari a 1,30 m a questo punto possiamo passare alla definizione delle falde selezioniamo il comando solaio e clicchiamo all'interno della regione chiusa individuata dai muri ripetiamo l'operazione per tutte le quattro campate a questo punto selezioniamo i quattro solai inseriti e oltre a cambiare la direzione principale impostandola pari a 90 gradi andiamo a definire la tipologia del solaio come falda con questa modifica notiamo che sono apparse in pianta delle linee di riferimento che indicano la posizione della linea di gronda delle falde per ogni solaio andiamo quindi a modificare la posizione di tale linea di riferimento in modo che coincida con l'effettiva linea di gronda della falda notiamo che è presente un segmento che indica la direzione di salita della falda una volta fatta questa modifica andiamo a selezionare le quattro falde inserite e definiamo un valore della pendenza che in questo caso è pari al 38% successivamente andiamo a definire i carichi per le falde selezionate impostiamo 2.5 kN al metro quadro di carico permanente 0.75 come carico permanente non strutturale e come carico variabile definiamo 1.3 kN al metro quadro abbinandolo alla condizione di carico elementare neve in questo modo abbiamo completato la modellazione del tetto possiamo quindi passare alla modellazione delle fondazioni ci portiamo al livello fondazione e attiviamo come riferimento questa volta la visualizzazione del piano interrato passiamo quindi all'inserimento delle travi di fondazione sfruttando una sezione rettangolare 600x300 definiamo il punto iniziale e il punto finale della trave sfruttando gli snap offerti dal disegno e ripetiamo l'operazione per tutti gli altri muri in questa fase dobbiamo notare che il collegamento in fase di creazione del modello strutturale avverrà se sotto il muro è presente una trave la cui impronta si interseghi in pianta con quella del muro e la cui direzione sia pressoché parallela a quella del muro con questo principio andiamo a modellare tutte le travi di fondazione sotto ogni muro del piano interrato poiché l'edificio presenta fondazioni sfalsate dobbiamo definire le travi di fondazione del piano terra al piano immediatamente inferiore cioè il piano interrato ci partiamo quindi nella vista del piano interrato e questa volta attiviamo come riferimento la visualizzazione del piano terra abbiamo così una traccia dei muri del piano terra sotto i quali definire le travi di fondazione procediamo quindi con l'inserimento delle travi di fondazione nel farlo evitiamo che la loro impronta interseghi le strutture del piano interrato in questo modo non dovremo agire sui vincoli nella fase di modellazione strutturale una volta inserite tutte le travi le selezioniamo e andiamo ad impostare la proprietà posizione come in fondazione questa modifica è necessaria perché sono travi in fondazione non appartenenti al piano fondazione bene con questo si conclude la modellazione architettonica dell'edificio prima di passare alla creazione del modello strutturale andiamo a tracciare due sezioni trasversali dell'edificio queste ci permetteranno di verificare che la modellazione sia stata eseguita correttamente una volta inserite le sezioni appaiono nella voce sezioni del navigatore a questo punto come fatto in precedenza possiamo passare al layout con quattro finestre e attivare in una delle finestre la sezione S01 e nell'altra la sezione S02 in questo modo possiamo controllare che la modellazione sia stata eseguita correttamente e che non ci siano errori a questo punto siamo pronti per la creazione del modello strutturale grazie